Con il portiere del Group Castello Davide Pierini parliamo della partita di sabato, la quarta del campionato di Serie D. Tutti dicono, veramente lo si diceva fin dall'inizio del campionato, che il vero torneo del Group sarebbe cominciato dalla trasferta di Spoleto. È il momento di dimostrarlo davvero Davide Pierini? A questo punto sì, non si può fare altrimenti. Abbiamo fatto tre partite, sicuramente sì, abbastanza provanti, difficili sulla carta. E poi anche in campo, con squadre che probabilmente alla fine del campionato staranno, penso, fra le prime cinque posizioni. Nulla toglie comunque che in qualche occasione avremmo potuto far meglio. Certo, domenica avete visto tutti la partita, è chiaro, giocare in dieci contro il Perugia. E magari quando doveva essere il Perugia, a essere in dieci e magari anche una zero per noi con rigore che ci avrebbero dovuto dare. Però ormai è andata così, indietro non si può tornare, si fa solo avanti. E sabato incontriamo lo Spoleto, che è sicuramente una formazione non tanto pubblicizzata, ma a quanto so, formata da ottimi giocatori. La rabbia che avete accumulato domenica è stata sbollentita o è ancora ben presente, tanto da poterla convogliare in energia positiva per sabato? Io spero di sì, spero si possa trasformare in energia positiva. Però non è che adesso questa partita del Perugia dobbiamo andare a pensare che ce l'hanno con noi, che siamo stati... Il calcio è fatto di episodi, a volte favorevoli, a volte sfavorevoli. Sabato è stato un po'... Gli episodi sono stati un po' sfavorevoli e faremo di tutto per, insomma, raddrizzare la barca. Perugia è stata una delusione però, lo possiamo dire? No, no, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. Loro, deludenti o no, hanno vinto 1-0. Hanno tre punti in più di noi, quindi... Insomma, non è che noi possiamo andare a guardare il Perugia o altre squadre. Certo, il Perugia sulla carta ha giocatori molto, molto importanti. Penso che, insomma, fra qualche mese sarà probabilmente un altro Perugia. Comunque l'aver giocato, tutto sommato, una buona partita, come hanno in pratica riconosciuto tutti gli osservatori, contro la presunta ammazza campionato, può essere... Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, un aspetto positivo. Sicuramente si, tocca guardare il bicchiere mezzo pieno. Però, ecco, ammazza campionato non penso proprio, perché qui abbiamo visto quelle tre famose squadre, e io penso anche la Pianese, è una squadra molto organizzata, il Casterrigoni. Se si vanno a vedere i nomi, non penso sia molto inferiore al Perugia, anzi. Quindi, insomma... Però, ecco, sono tutte partite livellate. Io ho visto che il livello è molto... molto equilibrato. Io penso che anche la prima può perdere con l'ultima e viceversa. Ecco, è un campionato in cui ogni domenica, insomma, ci potranno essere delle sorprese, ecco. Si diceva, in effetti, all'inizio da parte degli osservatori, campionato difficile e con tante squadre in grado di far bene. Il livello, però, è livellato, come dicevi tu, verso l'alto o verso il basso? Questa è la domanda che ci interessa, alla quale ci interessa sapere una risposta di un addetto ai lavori. Ma io penso che dopo tre partite sia difficile dire se è livellato in basso o in alto. Io, quel che posso dire, è che credo che in confronto all'anno scorso il livello si sia alzato. Non solo per il fatto di aver levato un giovane, perché, insomma, ci sono dei giovani molto interessanti. Ma non so per quale... Io penso che comunque, avendo messo dieci ombre tutte insieme, il livello anche agonistico si sia un po' innalzato. E poi, insomma, guardiamoci l'Arezzo, che adesso magari è in un momento un po' particolare, il Perugia, Castelrigone... Insomma, io penso che il livello si sia un po' alzato rispetto all'anno scorso. Comunque, credo sia doveroso dire che bisogna aspettare ancora, penso, altre cinque o sei partite e poi, penso, il quadro sarà molto più delineato. Siamo d'accordo. Pierini, prima stagione al Group Castello. Come vanno le cose, personalmente, per te, in questa esperienza in Alto Tevere? Sicuramente ho trovato un ambiente serio, un ambiente in cui, insomma, la professionalità è all'ordine del giorno. Mi trovo molto bene. Spero che, insomma, questo mio star bene sia legato anche a risultati un po' più soddisfacenti, anche perché penso che fino adesso, da quel che abbiamo espresso in campo, noi abbiamo raccolto sicuramente meno di quanto abbiamo fatto vedere.